Avevamo bisogno di due risultati a favore, il nostro e quello dello Schalke. Ne abbiamo avuti, quindi siamo agli ottavi. Il Montpellier però è una squadra molto ben organizzata, forte nel contrasto e molto aggressiva. Per noi quindi si è trattato di essere pazienti, non fare troppi errori, usare la nostra esperienza ed aspettare il momento giusto per colpire. Nel primo tempo abbiamo avuto problemi nella fase di transizione dalla difesa all'attacco, ma nel secondo tempo siamo migliorati, abbiamo mostro la palla meglio, colpendo in ripartenza e segnando davvero due bei gol. Il fatto che abbia segnato Wilshere dopo tanto tempo fuori per infortunio è davvero molto positivo, bello vederlo in campo sempre più in condizione. Il secondo di Podolski, poi è stato un gol veramente splendido. Grazie. Grazie.